Un treno ad alta velocità in India deragliato nella regione del Bihar causando una tragedia con almeno 4 morti e oltre 100 feriti. Questo incidente ha scosso l'intera nazione innescando il caos nel settore ferroviario. Il treno stava viaggiando dalla stazione ferroviaria Nand, Bihar Terminal di Delhi, verso lo svincolo di Kamatia in Assam quando è uscito dai binari. Le immagini e video dell'incidente hanno documentato la devastazione e considerando il grande numero di feriti, il bilancio delle vittime potrebbe aumentare. Secondo i resoconti dei media locali, tra cui il Times of India, l'incidente è avvenuto ad alta velocità e ha causato almeno 4 morti, coinvolgendo ben 21 vagoni nel disastro.